bella a tutti io sono li hunter come va ragazzi tutto bene scusate per che se non ho fatto video perché è un po preso in questi giorni riprendono a fare gli altri video spero con il tempo lo vediamo col tempo è tutto bene a parte questo tutto a posto perché martedì ho fatto gli lamenti per il torneo come sapete purtroppo in questo torneo stiamo andando abbastanza non benissimo ma perché non ho perso tutte le prime partite però speriamo di riprenderci la prossima siamo andata abbiamo fatto una riunione per il nuovo torneo estivo e siamo molto fiduciosi mi piace per quello abbiamo preso la maglietta nera molto carina secondo me secondo me e poi per il resto questo venerdì abbiamo un'altra partita no era questo venerdì mi pare abbiamo una partita non mi ricordo ve lo farò sapere poi anzi aspettate un attimo che vi faccio vi dico subito se abbiamo una partita in diretta proprio direttamente di 15 si questo no che sto di il prossimo venerdì sì il prossimo venerdì abbiamo una partita esatto questo è il nostro calendario speriamo bene speriamo bene perché è un torneo abbastanza complicato anche perché come sapete vi ho detto prima abbiamo perso le prime partite porca miseria non va dentro il quaderno mannaggia la miseria scusate un attimo è la prima volta che mi capito in diretta però vabbè succede ho girato la telecamera perché come sapete la luce mannaggia la miseria davanti alla luce della finestra non fa così ho dovuto fare così vabbè ragazzi poi per il resto non ho altro posso dire buon minnt'altro farò altri video magari parlando di altri commenti io vi ricordo di iscrivervi lasciare un commento mi piace se il video vi è piaciuto e niente ci vediamo al prossimo video bella ragazzi ciao ragazzi ciao